Ho sentito dire che si sta avvicinando il pianeta Nibiru, se è vero è che che influenza avrà sulla Terra? Ma è una storia un po' complicata che poi Pierre vi potrà spiegare, non è un pianeta, è un asteroide, è diverso. Sì, allora il pianeta Nibiru come è stato presentato da Zecharia Sitchin è un assoluto non senso logico, scientifico, culturale eccetera eccetera, perché un pianeta che per la maggior parte del suo tempo sta fuori del sistema solare e quindi della fascia abitabile è un pianeta a meno 270 gradi sotto zero e quindi non ci può essere alcuna vita. Anche quando entra nel sistema solare passa sempre nelle orbite fuori dalla fascia abitabile e quindi rimane ghiacciato, quindi Zecharia Sitchin ha scritto una grande favola che si è bevuta un sacco di gente perché manca delle basi più elementari di astronomia. Però voleva dare un messaggio, però voleva dare un messaggio, Zecharia è quello che in questo tempo accadranno delle cose, ma il pianeta Nibiru così come è spiegato è assolutamente illogico e anche sciocco, signore. Lei si immagina gli Anunnaki che caricano sull'astronava i miratori col piccone, quando Agnelli fa le panda coi robot? È un'assoluta sciocchezza, se ci hanno le astronavi ci hanno i robot, non si mettono i miratori che poi si ribellano perché si stancano, quindi è una sciocchezza. Però è una favola, Sitchin forse voleva indicare che ci sarebbe stata nel futuro una situazione catastrofica, ma non è Nibiru, è il piano di Dio ed è il cambiamento di questo sistema solare che deve avvenire. Poi volevo una volta di più sottolineare un fatto, noi caschiamo a volte in cose sciocche quando pensiamo che un traduttore solo perché legge una lingua antica capisca quello che ha letto. È esattamente lo stesso di pensare che adesso tutti noi che parliamo italiano ci prendiamo un libro di fisica quantistica e lo comprendiamo. Se non abbiamo la preparazione di quella disciplina scientifica, anche che leggiamo italiano, non lo capiremo. Quindi non è perché Sitchin leggeva il sumero, capiva una scienza di 6.000 anni fa, se noi manco capiamo quella attuale. Quindi a volte siamo molto ingenui e molto sciocchi nel berci tutto quello che viene da fuori. Dobbiamo stare attenti e attivare il cervello prima di accettare determinate teorie. E' vero che ci sarà un cambiamento, è vero che ci sono delle cose che accadranno, esistono dei mondi ma sono artificiali, appartengono alla Confederazione Interstellare. Un ultimo dato e chiudo questa risposta. Qualche anno fa una cometa grande quanto il pianeta Terra ha impattato su Giove, non c'è stato nessuno sconvolgimento del sistema solare, non se ne accorta nemmeno la NASA, sa perché lo hanno saputo, perché c'era un cretino di astronomo dilettante, dico cretino per scherzare, che in quel momento aveva il suo telescopio privato nel cortile di casa e stava guardando nel punto dove la cometa è impattata ed era grande quanto la Terra. Quindi sta storia di Nebiro, una grande sciocchezza, in quel modo lì. Nell'altro modo è vero che ci saranno queste trasformazioni del sistema solare e ci sarà un corpo celeste che cambierà il sistema solare, ma sarà la riaccensione del Sole spento chiamato Giove.